Musica Si può perdonare chi ha ucciso tuo figlio? Si può credere nella giustizia senza cedere mai al giustizialismo? Che cos'è? Che cosa porta la pena? Cos'è il perdono? Sono domande, lo capirete, che chiedono riflessioni mai banali e un ascolto attento di chi con queste domande ha dovuto fare i conti nella propria vita. Ringrazio allora di cuore e la raggiungo. La ringrazio di cuore Elisabetta Cipollone per aver raccolto il nostro invito. Grazie di essere con noi questo pomeriggio. Buonasera. Ma siamo noi. Buonasera. Si accomodi pure. Io vorrei partire se lei è d'accordo con quel giorno, no? Quel giorno che di fatto ha sconvolto la sua vita, la vita della sua famiglia. Siamo a fine gennaio del 2011. Lei ha due, io dico, uso il presente, no? Ha due figli gemelli splendidi, Andrea e Cristian, che stanno tornando dall'oratorio, come facevano spesso. A un certo punto, sulle strisce pedonali, vengono travolti da una macchina che percorre quella strada a tutta velocità, lì dove il limite era appena di 50 km orari. Sì. Andrea viene colpito in pieno. Sì. E purtroppo non ce la fa. No. Ci puoi raccontare quei momenti? Guardi, i miei figli, come giustamente ha detto lei, attraversavano insieme e paradossalmente mi devo definire una mamma fortunata. Perché solo per una frazione di secondo anche Cristian non è stato travolto. Quindi, quando racconto la mia storia, mi definisco così. Andrea è stato preso in pieno, è stato scaraventato a 30 metri di distanza e non c'è stato nulla da fare. Che bel ragazzo. Sì. Era bellissimo, sì, veramente. Non perché fosse mio figlio, ma... Ho capito subito che se ne stava andando perché da lontano vedevo i rianimatori che cercavano di fargli ripartire il cuore, ma in realtà lui ha sbattuto la testa sull'asfalto e l'hanno portato in ospedale solo per pietà, perché per non lasciarlo sull'asfalto, se no era già morto, è morto immediatamente. Forse questa cosa mi consola anche perché credo che non si sia reso conto, sì. Senta, a volte tocca fare domande assolutamente banali, ma io penso che non ci sia niente di peggio che perdere un figlio. Sì. Come ha fatto i conti con questa perdita e come ha fatto i conti il fratello gemello, come ha fatto i conti Cristian? Guardi, quando, io dico sempre, quando succede un evento di questo, perché è assolutamente innaturale sopravvivere a un figlio, quando succede un evento di questo tipo, ti trovi veramente davanti a un bivio. Io, grazie a Dio, la lucidità non l'ho mai persa. Ti trovi davanti a un bivio se vivere o tentare di vivere. Io, ripeto, non ho mai perso lucidità e ho capito che comunque dovevo andare avanti per quel figlio che mi era rimasto e che aveva perso il suo fratello gemello. Però a questo punto inizia un percorso, perché lei, come io credo giusto fosse, è molto arrabbiata, no? Sì. È arrabbiata con chi ha ucciso il suo figlio, che viene processato. Viene processato, lei segue tutte le udienze, quattro anni di processo. In primo grado viene condannato a cinque anni e sei mesi, in secondo grado a tre anni e otto mesi, condanna che viene poi convalidata in Cassazione. Sì. Quanta rabbia aveva dentro contro quest'uomo? Io tantissima, una rabbia che mi avvolgeva e mi stritolava. Io, il mio unico, e ormai era diventato un chiodo fisso, il mio chiodo fisso era lui, quasi non pensavo a mio figlio, pensavo a lui. Ed era qualcosa che mi ingabbiava completamente, ma non solo ingabbiava a me, ma è naturale capire che tirava dentro anche tutta la mia famiglia, perché il mio malessere era un malessere che trasmettevo poi a tutti coloro che mi stavano vicino e che già avevano la loro sofferenza con la quale fare i conti. Lei voleva vedere in carcere quell'uomo? Sì, sì, assolutamente. Io lo volevo vedere in carcere e ho fatto una battaglia di quattro anni, finalizzata non solo a questo motivo, ma anche finalizzata, è stata una battaglia anche civile, per l'introduzione del reato di omicidio stradale. È stata introdotta, una battaglia vinta. Una battaglia vinta, sì. Senta, però a un certo punto poi la vita riserva delle sorprese incredibili. Lei incontra Marcella Reni di Prison Fellowship Italia, che le prospetta un progetto, il progetto Sicomoro. Sì. E lei entra nel carcere di opera. Sì, guardi, la cosa veramente incredibile è stata che io ho conosciuto la dottoressa Reni, Marcella Reni, ad un convegno nel quale, organizzato da noi, nel quale noi chiedevamo pene severe, chiedevamo certezza della pena, quindi eravamo giustizialisti. E lei era la voce del contraddittorio e a fine convegno, quando ha sentito il mio intervento, eccetera, si è avvicinata e mi ha detto che mi voleva proporre questo percorso in carcere. E lei accetta? Io ho accettato immediatamente, ma le dico la verità senza neanche capire bene che cosa andavo a fare. Però il fatto sta che lei entra nel carcere di opera e comincia a conoscere i detenuti, anche Ergastolani al 41 bis, insomma, reati importanti. Reati importanti, sì. E conosci un Ergastolano che a un certo punto le chiede una cosa incredibile. Che cosa le chiede? Conosco un Ergastolano, dunque erano diverse persone, uno di loro durante questo percorso che prevede una faccia a faccia fra vittime e carnefici, in un percorso di giustizia riparativa, uno di loro mi ha detto, guarda, dice, io voglio assolutamente mettere un fiore sulla tomba di Andrea. Il che voleva dire che doveva uscire dal carcere. Esatto. Quindi un permesso, uno dei pochi. No, il primo. Il primo. Lui erano ininterrottamente, aveva fatto a quel tempo 36 anni di carcere, ma ininterrotti 24. E quindi dopo 24 anni ha questo permesso e come lo spende? Io, le dico la verità, mi sono un po' messa a ridere. Ho detto, guarda che non ti daranno mai un permesso per venire. Invece? Invece il magistrato gliel'ha dato, ci abbiamo messo tantissimo tempo, gli ha dato il permesso e è stata una cosa pazzesca, perché io con amici siamo andati ad accoglierlo all'uscita di opera, l'abbiamo portato sulla tomba di Andrea, poi in chiesa abbiamo detto una messa, e poi abbiamo fatto un incontro con i giovani per sensibilizzare a rimanere nella legalità. E quindi lei da quel convegno in cui proponeva la tesi giustizialista, che cosa è diventata? Io sono diventata una volontaria e vado in carcere normalmente, insomma, e faccio dei progetti con loro. Ci diamo, facciamo un pezzettino di strada insieme, ecco, senza grosse pretese, senza mai puntare il dito, ma ho trovato in quelle persone, forse gli ultimi, tra quelli considerati ultimi, e ho trovato, me lo lasci dire, un'inaspettata umanità. E ripeto, io adesso è diventata, diciamo, qualcosa... Una ragione di vita. Sì, una cosa, un impegno totalizzante. Posso chiedere in conclusione, perché il nostro tempo è scaduto, cosa c'entra con tutto questo la fede? Sicuramente c'entra, perché ritrovando la pace, perché questo percorso, che comunque è stato doloroso, è stato lungo e doloroso, ho ritrovato la fede che avevo perso, completamente. Io negli anni in cui ero per quattro anni, sono stata ingabbiata, non solo nel desiderio di vendetta, di rabbia, eccetera, ma avevo anche perso la fede che avevo sempre avuto. E quindi adesso sono sicuramente più serena. Possiamo dire che questo è il miracolo di Andrea, e dei suoi occhi azzurri. Sì, sì. Io sono rapito da questi occhi azzurri. Ma io sono... Ho la certezza che sia stato lui. Ma proprio la certezza matematica, perché io sono sicura che quel giorno... Tra l'altro, dovrei raccontare degli aneddoti, io quel giorno lì sono andata a Roma, avevo la febbre, non dovevo esserci, quindi questo incontro non è stato... La dottoressa Reni le chiama le dioincidenze. Bella questa definizione. Le dioincidenze è straordinarie. Sì, ma sono convintissima che sia stato mio figlio, perché lui non poteva accettare che i miei familiari non avessero il loro fardello di dolore e dovessero anche sopportare i miei stati d'animo, che erano terrificanti. Posso ringraziarla? Ecco. Grazie alla nostra Elisabetta Cipollone, grazie per averci raccontato questa storia, che secondo me ha tratti importanti, Gabriella. Grazie Elisabetta Cipollone e grazie Massimiliano per la bella intervista. È una storia, una testimonianza, di fronte alla quale certamente non possiamo restare impassibili, ma che ci introduce al cuore della nostra riflessione di oggi, una riflessione che suscita domande importanti e dunque subito, senza indugio, do il benvenuto ai nostri ospiti a partire da Monsignor Vincenzo Paglia, un ritorno presidente della Pontificia Accademia per la Vita. Bentornato a Siamo Noi, Monsignor Paglia. È ben arrivato Raffaele Cantone, presidente della Soltà Nazionale Anticorruzione. Insieme hanno scritto un libro, un libro appena uscito per la terza, il titolo è bellissimo, la coscienza e la legge. È un dialogo tra la giustizia, se possiamo dirlo, laica e quella cristiana. E vedremo qual è il filo rosso che si snoda tra questi due crinali. Monsignor Paglia, in questa storia che abbiamo ascoltato direi che c'è un po' di tutto. C'è un reato che ha delle conseguenze gravissime, una coscienza completamente turbata, rabbia, ci ha detto una rabbia che ingannava, c'è la richiesta di una giustizia, di una pena, c'è l'applicazione di quella pena, c'è un superamento e un perdono. Che cos'altro suggerisce a lei questa storia, la storia di Elisabetta? La storia di Elisabetta suggerisce una cosa, che quando si parla di perdono bisogna evitare ogni superficialità, come quando, so, di fronte a un evento come questo, ma lei lo perdona. Ma cosa vuol dire? Il perdono è il frutto di un cammino, di una maturità spirituale, di fede e anche culturale, perché il perdono, a differenza di quello che si vence il perdonismo, il perdono libera, libera energie, come ha liberato Elisabetta, come libera energie in quel carcerato, come libera energie intorno a noi. Cioè il perdono, inteso come consapevolezza del dramma, e come volontà di superarlo, sia chi l'ha subito il dramma, sia chi lo ha fatto, è il motore per rendere più umana la storia, perché cattivismo, più cattivismo, fa disastri. C'è già tutto qui, c'è già una bella provocazione allo spirito del tempo, in qualche modo. Dottor Cantone, interessante da un cristiano questa distinzione perdono e perdonismo, che non è molto scontata. Che altro suggerisce a lei la storia, la testimonianza che è stata appena condivisa con noi? Ma prima di tutto vorrei dire che sono d'accordo con quasi tutto quello che ha detto, anzi con tutto quello che ha detto Monsignor. Poi ci direte in che cosa non siete d'accordo? Soprattutto io sono assolutamente d'accordo la differenza fra perdono e perdonismo e trovo questa storia particolarmente toccante, oltre che dal punto di vista umano, perché viene da una persona che si approccia rispetto al mondo carcerario, con un approccio assolutamente da cattivista. Poi si rende conto che all'interno del carcero ci sono tantissima umanità. Io l'ho verificato tante volte facendo il mio precedente lavoro di pubblico ministero. Cosa significa stare in carcere? Che è un momento di grande sofferenza. Ciò detto però, la storia che racconta la signora è in linea con l'idea di una giustizia che deve consentire il recupero, ma che non lo deve regalare. Cioè io sono convintissimo che fermo restando il perdono cattolico, che è un sentimento eccezionale, bellissimo. Io sono cattolico, credo che sia il tratto più bello della nostra religione. Però poi dal punto di vista della legge c'è bisogno anche di un certo rigore. Soprattutto di un rigore che consente di fare le valutazioni individuali, non le valutazioni lassiste che sono quelle del perdonismo. Per esempio l'indulto, le amnistie. Io credo che finiscono per dare l'idea di una giustizia che non funziona perché si applicano a tutti, non a chi, come racconta la signora, lo ha meritato. Abbiamo stabilito una significativa distinzione. Monsignor Paglia, Elisabetta a un certo punto ha accennato a questa giustizia riparativa. Noi Marcella Reni l'abbiamo avuta qua, veramente ha portato questa piccola grande rivoluzione dentro il nostro studio. Però le chiederei davvero di provare a spiegare nella maniera più semplice possibile, far capire di che cosa parliamo quando parliamo di giustizia riparativa. Perché non c'è neanche... è come un anello della catena differente. Non è che di fronte a chi ha subito il reato da vittima c'è la persona che ha provocato quel reato direttamente. C'è qualcosa di diverso, il livello è differente. Così come gli effetti. Partirei già da un brano che abbiamo ascoltato domenica scorsa. L'adultera. La legge diceva di lapidarla. Gesù dice alcune parole e quelli che devono lapidarle hanno capito che non era aria. Poi si rivolge alla donna e non è che nega che abbia sbagliato. Le dice tuttavia non devi peccare più. Il carcere e oggi anche la giurisprudenza è nata per redimere, per riparare il danno fatto e per cambiare vita. E' questo il punto fondamentale che noi dobbiamo proporre. In questo senso è totalmente sbagliato. Quello deve marciare in carcere. No, perché il carcere è nato come redentivo. Cesare Beccaria dei delitti e delle pene un monumento alla cultura illuministica laica e anche cristiana. In questo senso tutta la società deve prendere consapevolezza che chi sbaglia non va espulso. Certo, ha ragione e che la pena deve essere redentiva. Aiutarlo a capire che ha sbagliato e a promettere dati alla mano che non lo farà più. Vediamo cosa ne pensano i nostri telespettatori. A te Simone. Sì, dite la vostra sul tema di oggi. Cos'è per voi la giustizia? E quanto è importante il perdono? Condividete con noi le vostre riflessioni. Vi lascio subito i nostri contatti, la nostra mail siamo noi chioccio alla tv2000.it il nostro numero whatsapp 348 30 70 345 oppure lasciateci un messaggio in segreteria 822 88 96 o venite a trovarci sui nostri social. Vi aspettiamo. Molto bene Simone. Allora, lei prima Cantone diceva il mio lavoro ex lavoro di PM, no? Ma a proposito ritornerà a farlo a breve? Ci voglio, ci sto provando ma non dipende da me. Non ci sono novità, no? No, assolutamente no. I tempi sono non brevi. Non sono brevi. Ma c'è voglia di farlo? Assolutamente sì. C'è voglia di farlo. Sì, sì. No, le facevo questa domanda cercando anche di carpire qualche novità perché secondo me chi amministra la giustizia ha un compito non facile perché dal proprio lavoro dipende la direzione che devono prendere tante vite quella dei rei certo ma anche quella delle tante Elisabetta delle tante famiglie come Elisabetta e come lo si svolge questo lavoro? Ma guardi io credo che sia un lavoro che ti crea continue tensioni dal punto di vista etico perché tu sai benissimo e soprattutto è un lavoro nel quale io credo che sia indispensabile non darsi certezze riuscirsi a mettere sempre in discussione io per lunghi anni mi sono occupato di criminalità organizzata ho fatto processi che riguardavano efferatissimi delitti mi è capitato tante volte di chiedere e ottenere l'ergastolo io non sono riuscito mai a gioire quando l'ergastolo giustamente io credo fosse applicato perché era una sconfitta dello Stato dell'umanità d'altro canto però io credo che quella era anche la prova di uno Stato capace di evitare la vendetta privata perché la funzione della pena è anche quella di sostituire la forza dello Stato alla forza della vendetta privata che lo Stato ha il monopolio della forza e solo lo Stato deve avere il monopolio della forza e poi per fortuna nel nostro ordinamento anche l'ergastolo non è una pena definitiva ovviamente a chi dimostra di voler fare certi passi chi non lo dimostra tutto sommato fa anche una scelta di tipo individuale come ci si pone approfondendo questa domanda che l'ha appena posta Massimiliano di fronte alla fallibilità del giudizio umano la possibilità che è sempre dietro l'angolo di sbagliarsi dell'errore ma io credo che proprio perché tu sai benissimo quanto è difficile ricostruire una vicenda processuale io credo che sia una cosa drammatica io per esempio non ho mai voluto fare il giudice proprio perché credo che giudicare sia una delle cose più difficili che esistono al mondo ho sempre voluto fare il pubblico ministero quando mi sono occupato di penale perché tutto sommato l'essere parte sia pure interpretando in modo molto presente con una grande partecipazione ti fa perdere la parte del giudizio io credo che bisogna mantenere un grande senso critico ricordando che non ci sono certezze ricostruire a distanza anche di un giorno un fatto non è la stessa cosa che viverlo solo chi lo ha visto è in grado davvero di ricostruirlo quindi io credo che sia giusto che un giudice si ponga in modo assolutamente critico e quelle indicazioni per esempio sulla presunzione di non colpevolezza non sono solo parole sono espressioni di principi veri anche il fatto del dubbio che deve rappresentare il criterio che il giudice si deve porre continuamente mi viene da chiedermi insomma se tutti i magistrati hanno questo approccio su questo ma probabilmente no però molti le assicuro di sì ci facciamo abbastare questo molti allora andiamo in pubblicità subito dopo vi racconteremo la storia di una donna a cui è stato ucciso strappato via il marito fra pochi minuti tra poco rientriamo in studio per continuare a parlare con Monsignor Paglia e Raffaele Cantone di temi importanti parliamo di coscienza di legge ci domandiamo se la giustizia coincide sempre con la legge con la legalità e in particolare Monsignor Paglia abbiamo sentito la testimonianza molto toccante di Elisabetta e quindi la giustizia anche quando chiede invoca una pena la pena viene applicata viene anche scontata non sempre restituisce alla vittima ai familiari della vittima pace e serenità sì in realtà la pena è uno strumento ma già Aristotele diceva che i i legislatori più accorti danno più spazio all'amicizia che alla giustizia in che senso che la sostanza del convivere è data dall'amicizia dal rapporto umano dalla fiducia dalla comunità dalla polis è questo quello che va ricuscito perché altrimenti può accadere come oggi che una famiglia zingara ha diritto ad occupare una casa però lei non ci va perché intorno c'è un'amicizia questo però distingue la giustizia cristiana da quella laica dove lì tendiamo a restaurare un ordine che è stato violato io non credo qui c'è uno scopo ulteriore però questo ce lo sta dicendo lei di costruire una comunità assolutamente ma con questo libro abbiamo spesso discusso io e Raffaele ovviamente le accentuazioni possono essere diverse però quello che conta è edificare la comunità dei cittadini è questo lo scopo a cui la giustizia è destinata poi certo per il cattolicesimo per la rivelazione cristiana c'è una destinazione che è quella del regno della città santa dove la giustizia viene a coincidere con l'amore e con la misericordia ma mentre siamo in cammino è chiaro che c'è una possibile distanza e anche frizione ma poi io dicevo a lui per fortuna che Dio è più misericordioso che giusto allora ve l'aveva preannunciato Massimiliano vogliamo adesso raccontarvi anche un'altra storia con l'aiuto di Andrea Postiglione vi vogliamo far conoscere Angelica Miusy è la vedova di Alberto Miusy molti di voi ricorderanno questa vicenda tragica Alberto Miusy è avvocato consigliere comunale a Torino fu barbaramente ucciso sotto casa sua sette anni fa da una persona che aveva il volto coperto da un casco vediamo Alberto Miusy era mio marito era avvocato prima di tutto poi è diventato professore universitario e poi consigliere comunale sette anni fa è successo che Alberto è stato aggredito sotto casa nostra nel pieno centro di Torino da una persona con il volto coperto da un casco è stato aggredito con quattro colpi di arma da fuoco un colpo di striscio lo colse alla testa e Alberto dopo pochi istanti si addormentò e non si svegliò più avevo bisogno di far continuare ad esistere il nome di Alberto aprì un fondo presso l'ufficio Pio di Compagnia di San Paolo che portava il nome di Alberto e il mio insieme e portava anche una serie di progetti molto interessanti in quel momento mi sembrava che il progetto sul carcere che si chiama Progetto Logos potesse far tornare a esistere persone un po' dimenticate era importante secondo me che qualcuno si accorgesse di questo tipo di energia che viene fuori nel luogo più impensato in un luogo di dolore di depressione per dimostrare anche a noi stessi che ci si può rialzare in piedi Progetto Logos porta al lavoro ex detenuti tra questo gruppo di persone noi abbiamo scelto i detenuti che fanno parte del polo universitario del cacere di Torino vengono trovati dei piccoli progetti della durata massima di tre anni noi provvediamo a pagare lo stipendio a queste persone che attualmente sono dieci il tasso di recevitiva sfiora lo zero credo davvero che non posso salvare il mondo però queste persone siano una testimonianza di grande concretezza e di grande energia di cui anche fuori siamo un po' sprovvisti alle volte siamo un po' ripiegati su se stessi siamo ripiegati certe volte su una vita che non vuole più esistere e quindi esistere è molto importante per me le parole di Angeli Gannisi il senso di giustizia ma anche quello di perdono andare avanti in qualche modo attivando le energie migliori ma come è venuta l'idea di fare un libro sulla giustizia? come è nata questa idea? è nata perché è un tema cruciale tra l'altro io non mi permetterei di esortare Elisabetta e questa signora ad andare a predicare tutte le domeniche nelle chiese italiane a parlare di questa forza del perdono che cambia la società perché comincia a cambiare noi se non si cambia da noi l'Italia resta così com'è si urla non si parla più la coscienza è la legge lei è la coscienza il dottor Cantone la legge no no io gli ho detto che lui fa il pubblico ministero io faccio il ministero pubblico quindi cerco di come dire di far comprendere che quel che conta è che questo rapporto tra la coscienza e la legge sia un rapporto scendibile perché una legge senza la coscienza non serve e una coscienza ha anche bisogno della legge però il cuore di tutto è la coscienza di ciascuno di noi credente o non credente non importa la coscienza di voler costruire un mondo una città dove convivere assieme in pace e se ci sono problemi si risolvono parlando e aiutandosi e anche se c'è bisogno del carcere ma mai il carcere isolato legato alla società come giustamente questo questo tasso bassissimo di recidiva veramente licitante io volevo sapere se avete mai litigato o discusso assolutamente no abbiamo in qualche caso diciamo discusso un pochettino il libro da una diciamo come vicenda concreta da un dibattito a cui fommo invitati entrambi a Roma all'esito del quale la casa editrice ci disse perché non provate a riprendere questo dibattito e poi è andata così poi diciamo ci siamo visti 6-7 volte è stata l'occasione di parlare di conoscerci meglio sotto questo profilo io ringrazio la casa editrice di avermi dato l'occasione di conoscere una persona così bella intensa come Monsignor Paglia ovviamente su molte cose credo che sia giusto che ci sia una posizione diversa io credo moltissimo nella riabilitazione però credo anche che lo Stato in certe occasioni deve fare lo Stato deve anche saper mostrare la faccia dura perché quante volte anche noi genitori abbiamo bisogno di mostrare la faccia dura nei confronti dei figli mica si può essere sempre miti o buoni lo Stato non lo fa oggi non lo fa a volte sì a volte no ma io lo rivendico come scelta giusta quella di mostrare la faccia dura purché accanto alla faccia dura lo Stato sia in grado anche di mostrare la faccia buona quando le persone lo meritano ricordiamo quanto è importante quell'articolo 27 della Costituzione mentre interpelliamo Simone che sta raccogliendo le voci dei nostri telespettatori è vero Gabriella tante testimonianze grazie a tutti voi che ci state seguendo e scrivendo cominciamo da Anna la giustizia dovrebbe essere alla base di tutto davanti a Dio e alla legge siamo tutti uguali Pasquale il perdono è necessario è un modo per dissolvere l'ira e ristabilire la speranza Maria anch'io ho perso un figlio in un incidente ma il colpevole non ha mai pagato quella per il perdono è una strada davvero lunga Anna il perdono è un dono di Dio non è facile ma nemmeno impossibile posso dire una cosa riprendendo la terza di queste indicazioni nella vicenda della signora comunque c'è stata una giustizia che è riuscita a fare la sua parte l'ha fatta bene l'avrà fatta male e questo io credo che comunque ha aiutato la signora ad una scelta del perdono nella indicazione che abbiamo della signora che dice questa persona ma hai pagato è anche più difficile perdonare io credo che una giustizia giusta possa essere un aiuto al perdono questa mi sembra una distinzione fondamentale io voglio dare un aiuto a questa prospettiva proprio per evitare un altro gravissimo problema che purtroppo in questo tempo rischia di prevalere cioè il rischio di volersi fare giustizia da soli è un dramma lo Stato ha il dovere di garantire la sicurezza di tutti in questo senso favorire come dire la volontà di farsi giustizia da soli vuol dire immettere nel tessuto sociale violenza forza che lacera e che non unisce ecco perché sono d'accordo che lo Stato questo dice parecchio al tempo turbolento che viviamo è un dramma farsi giustizia da soli? io credo di sì io credo che sia la più grande sconfitta dello Stato tant'è che in tutte le legislazioni è prevista questa ipotesi eccezionale della giustizia da solo che però viene fatta nella logica di difesa non nella logica dell'offesa nostri principi che risalgono al diritto romano la legge delle dodici tavole nasceva dall'idea lo diciamo ne cives ad arma veniant non si devono sparare non si devono ammazzare fra di loro è lo Stato che è l'unico ad avere il monopolio della forza l'idea di lasciare al cittadino mette in discussione proprio i capisaldi della democrazia fondamentale io non resisto alla tentazione con quel bel titolo coscienza e legge la corruzione come la spieghiamo cos'è tra questi due estremi ma la corruzione è sicuramente il più grande furto rispetto al futuro e alla democrazia perché la corruzione è uno strumento che finisce per avvantaggiare pochi a svantaggio di molti perché per esempio questo Papa e non voglio ovviamente togliere argomenti a Monsignor Paglia parla tantissimo della corruzione perché è evidente che la corruzione rappresenta uno strumento di sovruttazione la corruzione spuzza disse proprio a Napoli ma non solo il Papa ha detto delle parole fortissime ma perché perché io sono convintissimo che la corruzione sia uno strumento che consente agli uomini più forti di avere le occasioni se io non avessi soldi come faccio a corrompere il povero non potrà mai fare una corruzione subirà gli effetti dell'altrui corruzione abbiamo dieci secondi già parlo segnali stranissimi in questo caso Gesù ha detto che con Cesare ci si può mettere d'accordo con Mammona cioè i soldi non c'è accordo grazie a tutti voi come a caso Monsignor Paglia celebrerà le palme nel carcere di Re Bibbia la prossima settimana cittadina grazie termina qui siamo noi ma torno domani come sempre puntuale alle 15 e 20 rivederci